Bella ragazzi, qui Luca Cate di Youtube, ben ritornati sul canale, oggi siamo qui perché andremo a parlare di Renato, Sanchez e Paredes che saranno due nuovi giocatori della Roma, prima di iniziare però vi ricordo ovviamente di lasciare like e iscrivervi al canale attivando la campanellina se questo contenuto e i prossimi futuri potrebbero interessarvi vi ricordo anche di commentare, visto che adesso i commenti sono attivi, romanisti e non, fatemi sapere la vostra su Renato, Sanchez e Paredes adesso direi di iniziare subito, allora Renato, Sanchez e Paredes sono entrambi già attesi a Roma domani per svolgere visite mediche e poi firmare il contratto allora la Roma aveva assolutamente bisogno di centrocampisti anche dopo la cessione di Matic comunque si è accaparrata due ottimi centrocampisti, adesso vi andrò anche a spiegare i dettagli e quanto l'ha pagato allora Paredes è stato pagato a titolo definitivo 2 milioni e mezzo più una rivendita, una clausola sulla rivendita scusate del 30% ovvero ciò che andrà al PSG in futuro quando Paredes verrà rivenduto mentre Renato Sanchez si trasferirà a Roma per una cifra da definire però si sa che è un prestito con obbligo di riscatto io penso che sia sulla decina o quindicina di milioni secondo me la Roma ha fatto ottimi acquisti, ottimi acquisti perché comunque ha dato via Matic per 3 milioni e l'ha sostituito con un Paredes a due e mezzo che considerando che Paredes è anche più giovane di Matic perché effettivamente Matic era molto più vecchio, sinceramente per me conviene poi comunque Renato Sanchez è giovane e secondo me hanno fatto benissimo a comprarlo già in passato c'era stato un rumor di Renato Sanchez alla Roma, ciò che poi però non è avvenuto però adesso la Roma è riuscita ad acquistarlo, ottimo, ottimo, ottimo acquisto per la Roma che si fa degli ottimi rinforzi per il centrocampo nel centrocampo avranno Pellegrini, Cristanta, Auar, Renato Sanchez, Paredes sono quelli i big poi ci sono anche Bove e tutti gli altri centrocampisti come anche Camara per esempio allora ragazzi il video finisce qui vi ricordo ovviamente di lasciare like, iscrivervi al canale attivando la campanellina se questo contenuto e i futuri vi potrebbero interessare commentate romanisti e non su cosa ne pensate dei due acquisti della Roma anche singolarmente direi che noi ci becchiamo in un prossimo contenuto bella ragazzi bella ragazzi